Nel recupero della sesta giornata di ritorno il Giulianova batte con un gol per tempo il Porto Sant'Elbidio con le reti di Cipriani e Tedone. Dopo aver costruito le bassi per evitare la retrocessione diretta nel fortino del Castrum, i giallorossi tornano a calcare il manto erboso del Rubens Fadini e lo fanno senza defezione di formazione, certo per lo squalificato De Cerchio, sostituito a centrocampo nel 3-5-2 di pertenza da Cipriani. De Moleon torna al centro della difesa in attacco con fermatissima la coppia Barlafante-Paudice. Difficoltà di formazione invece per mister Palladini alle prese, con sei indisponibili, con i gialloneri marchigiani che si dispongono con modulo a speculare ai padroni di casa con Alessio Palladini a rifinire per Carissimi e Perri, arbitra Andrea Recupero di Lecce. I padroni di casa provano subito a rendersi pericoloso dopo 9 minuti di gioco, ripartenza veloce di Paudice, bravo ad accentrarsi e servire Tedone con la conclusione di quest'ultimo che finisce sul fondo. I marchigiani giocano senza paura e rispondono subito andando vicino al gol in due occasioni. Il primo a provarci è Perri con una conclusione ad incrociare dal vertice alto dell'area di rigore che Mora allontana, mentre più tardi e Carissimi ad approfittare di un alleggerimento difensivo errato di Cipriani, ma il tiro è deviato in corner da Mora. I giallorossi sentono l'importanza dei punti in palio e lo dimostrano alcune scelte affrettate durante le fasi di gioco. Allora gli ospiti provano ad approfittarne dopo il quarto d'ora quando dagli sviluppi di un corner Aliffi approfitta di un'uscita avventurosa di Mora per indirizzare verso la porta ma deve fare i conti con Massetti appostato proprio sulla linea. Gli ospiti, come spesso accaduti in questo campionato, commettono troppi errori di inesperienza e da uno di questi, Paudice, serve l'inserimento di Cipriani che da limite dell'area fa partire un tiro secco che si spegne alle spalle di Cavalieri. Il Giulianova ha trovato il gol del vantaggio, si scioglie e cerca più volte la via del raddoppio, ma solo con conclusioni dalla distanza, mai senza rendersi pericolosi. Ma prima del finale di Frazione è Alessio Palladini ad andare vicino al pareggio con un tiro che termina da un soffio dal palo sinistro della porta difesa da Mora. La ripresa per il Giulianova inizia come meglio non si potrebbe, Tedone, sempre lui, va via con un tunnel ad un avversario, poi l'assist per Tedone è perfetto che è lo stesso numero 8 deposita in rete per la gioia di tutta la panchina giallorossa. Il porto Sant'Elpidio non si dà per vinto e si riaffaccia pericolosamente in area abruzzese al quarto d'ora quando Gusteri, servito sul filo del fuorigioco, si fa chiudere in corner da Mora tra le potesse dei suoi compagni di squadra che chiedevano il rigore. Dagli sviluppi del corner è ancora Mora, provvidenziale, a deviare in corner un colpo di testa ravvicinato di Aliffi. La partita praticamente finisce qui con i due allenatori a pescare dalla panchina per far tirare il fiato ai propri giocatori in vista dei prossimi impegni. Con questa vittoria il Giulianova mantiene una considerevole distanza dalle ultime due posizioni mentre i marchigiani sprofondano in ultima scavalcati anche dall'Agnonese, vittorioso contro il Tolentino. Dopo il gol ci siamo sbloccati un po' tutti, i primi 15 minuti siamo andati un po' in difficoltà che era una partita per noi fondamentale e eravamo un po' nervosi diciamo, c'era molta tensione. Dopo il gol mio ci siamo sciolti e piano piano abbiamo giocato sempre meglio. Oggi hai avuto questa opportunità di giocare subito dall'inizio e l'hai sfruttata al meglio, adesso che cosa ti aspetti? Beh, diciamo, io do sempre il massimo e spero di poter giocare, però sei sempre il mister che decide. Ecco, con questa vittoria praticamente avete blindato i play-out, se saranno play-out, nel senso che potrà arrivare questa nuova comunicazione da parte della Lega dove chi farà i play-out si salverà automaticamente e retrocederanno anche due. Questo comunque potrebbe essere una buona notizia per voi. Sì, diciamo che ci speriamo, però noi adesso pensiamo a partita per partita e vincere tutte le partite e fare più punti possibili, così da arrivare alla salvezza anche direttamente, diciamo, ci proviamo. Siamo partiti bene noi, potevamo andare in vantaggio, poi abbiamo preso il gol del 1-0, lì abbiamo perso un pochettino le distanze, poi il 2-0 è venuto sempre sul nostro errore purtroppo di ingenuità e di giovenezza e poi sul 2-0 tutto era più difficile, anche se poi i ragazzi ci hanno provato fino alla fine, potevamo riaprirle in qualche situazione. Sì, il nostro cammino è questo, adesso dobbiamo pensare alla partita di domenica, a recuperare un po' di giocatori, perché oggi mancavano quasi tutti i difensori, quindi il nostro cammino è questo qui e dobbiamo pensare alla partita di domenica, assolutamente.